amici telespettatori buonasera beh vale il solito adagio non è venerdì se non c'è polifemo e noi grazie a dio ci siamo anche stasera ci siamo con una puntata davvero particolare perché ho deciso di intervistare di farci una bella chiacchierata con gianni liviano consigliere regionale nonché consigliere comunale ma fino a una ventina di giorni fa anche un mesetto fa circa anche assessore regionale una vicenda particolare quella che ha comportato poi le dimissioni o dico di fatto l'estromissione dalla giunta e quindi cercheremo di chiarire questa vicenda ma poi anche di comprendere l'operato di gianni liviano in qualità di assessore fino al momento in cui è avvenuta l'interruzione del rapporto appunto dell'attività appunto assessorile ma anche capire quali saranno gli obiettivi di gianni proprio come consigliere regionale il suo impegno per il comune insomma una chiacchierata a 360 gradi sulla vita politico amministrativa di taranto e della regione puglia intanto gianni buonasera e grazie per aver accettato questo invito beh noi ci conosciamo con gianni da da 30 anni dai tempi lontani in cui come si sol dire si portavano i pantaloncini corti e frequentavamo le mitiche scalette scale della della concattedrale quindi è giusto che ci diamo del tu io solitamente c'è uno genere usa un certo protocollo no dare del lei ma quando si è tra amici e ci si conosce da 30 anni beh sarebbe una falsità darsi del lei e allora gianni intanto com'è il tuo stato d'animo al momento ciao luigi buonasera buonasera a tutti grazie della della vostra disponibilità questa esperienza che abbiamo vissuto che ho vissuto è stata un'esperienza che umanamente molto molto forte ha procurato onestamente un po un po di sofferenza è un po è un opevismo ha procurato molta sofferenza è una sofferenza oseri dire sicuramente politica ma anche prima che politica una sofferenza umana gianni cerchiamo di ricostruire ovviamente in termini semplici fruibili per chi ovviamente non ha una grande conoscenza amministrativa cerchiamo un po di ricostruire la la vicenda cosa è accaduto cercare di comprendere perché a tuo modo di vedere quelle accuse sono state ingiuste ma ecco ricostruiamo facciamo un excursus di questa storia raccontiamo il fatto no come come nasce questa cosa avevo pensato sin dall'inizio quando mi sono insediato di provare a costruire il programma delle cose da fare il progetto per la cultura per il turismo degli anni in cui così sarebbe durata questa questa esperienza in maniera condivisa partecipata provando ad ascoltare le voci e le sensibilità dei singoli territori di taranto di lecce di bari di foggia di brindisi della bat e provare ad ascoltare gli stakeholders istituzionali gli attori economici sociali culturali di ogni singola città per fare questo mi sembrava importante fare organizzare gli stati generali del turismo della cultura lanciai questa iniziativa in un'intervista fatta apparsa il giorno di ferradosso sul torriere gianni perdonami la tua delega assessorire era al turismo alla cultura e beni culturali lanciare questa cosa dicevo in un'intervista fatta sul torriere della sera al torriere del mezzogiorno il giorno di ferradosso e diedi dei tempi per l'inizio di questo percorso di ascolto di condivisione di partecipazione costruzione condivisa del programma di sì avremmo iniziato questa esperienza entro la fiera del levante quindi diciamo entro la prima delta che più o meno di settembre questi tempi condincentati fecero in qualche maniera preoccupare i dirigenti del del nostro assessorato che mi dissero che era oggettivamente complicato immaginare costruire un bando in questi tempi no con tempi così brevi e mi consigliarono di rimanere sotto sotto la soglia cioè sotto sotto 40 mila euro sotto 40 mila euro per organizzare questa iniziativa per dare a una società esterna la possibilità di organizzare in in otto sedi per otto eventi in tutta la puglia questi stati generali ci consentiva questa soglia ribassata di utilizzare dinamiche metodi differenti io potenzialmente volendo avrei potuto dare l'affidamento diretto a chiunque proprio perché eravamo sotto i 40 mila euro non mi sembra opportuno e decidemmo di avviare una procedura di evidenza pubblica diciamo a beneficio ripeto di chi non conosce le cose amministrative cosa significa evidenza pubblica significa che sostanzialmente attraverso un meccanismo gestito della regione che si chiama e in puglia potevano essere in qualche maniera invitate una serie di società tra le società invitate che avevano per così dire la carattere nell'oggetto sociale un oggetto sociale coerente rispetto all'iniziativa che avremmo dovuto organizzare ne furono sorteggiati alcune e furono invitate a a partecipare tra le società invitate a partecipare una sola in tutta l'italia cioè tra le tante società invitate a partecipare una sola che la società di taranto quella all'interno della quale c'è massimo fallò che è un mio amico accettò di organizzare otto eventi in otto città della puglia pagando otto fitti delle sedi che ci ospitavano pagando i manifesti e le tasse d'affissione di volta organizzando il buffet per 250 persone in ogni circostanza quindi in otto circostanze pagando la costruzione del sito pagando gli otto moderatori che per ogni evento coordinavano i tavoli di lavoro quindi 88 tavoli lavoro per 8 eventi quindi 64 moderatori no pagando chi organizzava e costruiva i report finali insomma tutto ciò costava complessivamente 39 mila euro che poi diventavano se 37 mila perché c'è stato gianni questa persona è stato il tuo contestatario del tuo del conto corrente per la campagna elettorale assolutamente un mio amico che è stato contestatario del conto corrente a cui io ho detto che c'era questa questa possibilità di di partecipare a all'organizzazione degli stati generali ovviamente io l'ho informato che c'era questa cosa e poi chiaramente sono stati gli uffici a gestire la procedura una scelta fammi capire discrezionale dell'ufficio come come funziona la cosa nel senso che tra le tra i candidati tra virgolette c'era questo tuo amico ma la scelta come è avvenuta c'è stata una valutazione delle singole persone o è stato un meccanismo automatico diciamo scelto direttamente dal computer tutte le altre società interpellate hanno ritenuto eccessivamente basso l'importo e quindi nessuna ha fatto richiesta di partecipazione rimasto solo questa persona solo questa verso questo questa società all'interno della quale c'è questo mio amico che ha dato disponibilità e l'ha data per due ragioni forti a mio parere una pur sapendo di non guadagnare assolutamente niente dell'organizzazione di questa iniziativa c'è stava a cuore l'idea di condividere di costruire insieme di immaginare percorsi politici condivisi e questo è un aspetto l'altro aspetto probabilmente più pragmatico era quello di probabilmente di entrare all'interno dei meccanismi di relazioni con la regione anche economici come legittimo la società faccia anche attraverso una bella figura in questa iniziativa l'uomo della strada anzi certi corvi mettiamola così hanno detto hanno rivolto questa accusa ecco gianni liviano ha voluto mettere l'amico suo forse questa è la cosa che più ti ha ferito luci se io avessi voluto mettere l'amico mio avrei dato l'affidamento diretto all'amico mio cioè avrei chiamato stavamo ripeto lo potevi fare perché era legalmente perché era legalmente lecito tieni presente che l'amico mio comunque la società di cui lui fa parte non aveva al momento delle mie missioni manco firmato il contratto cioè questi hanno organizzato due eventi a taranto e lecce dove hanno partecipato 250 persone per ogni evento con riscontri assolutamente positivi con un'esperienza molto bella individuati dai dirigenti della regione ovviamente non da me e hanno rimesso solamente i soldi che hanno anticipato per fare questi eventi cioè stiamo parlando una cosa completamente inesistente ecco gianni ma a questo punto qualcuno ha detto ma per ragioni non di legalità ma di opportunità non sarebbe stato preferibile dire a questo amico non entrare proprio in questa in questa gara chiamiamola così a posteriori può essere che così sia cioè voglio dire io non per opportunità probabilmente può può essere questa cosa in realtà però può essere davvero che una persona un gruppo di persone io conosco su 200 200 mila abitanti tanto oserei dire che ne conosco senz'altro almeno 80 mila può essere che 80 mila persone potenzialmente non debbano poter partecipare a un'organizzazione perché poi gianni non per difenderti ma il tuo amico fa parte di una società si dà il caso che deve vivere non è che vive di aria è un professionista che chiaramente svolge un'attività e svolgere un'attività significa anche entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni no io credo che gli imprenditori non debbano essere avvantaggiati ma non devono essere neanche svantaggiati per il fatto di essere amici di nuova politica in ogni caso quando il direttore del dell'assessorato mi venne a dire che aveva vinto la questa gara questa società noi ci confrontammo io chiesi ma può essere che abbia insomma quello che conosco io e quello mi disse guardi non c'è nessun altro che ha ritenuto opportuno partecipare cioè stiamo parlando di una gara senza competitor cioè nonostante siano state invitate una serie società nessuna delle altre società invitate ha ritenuto opportuno partecipare perché tutti hanno ritenuto eccessivamente basso l'importo di partenza quindi non conveniente per partecipare una gara cioè non aveva non andava a ledere i diritti di nessuno perché non aveva concorrenti interessati non c'era nessun altro che fosse interessa la verità luigi è che io ora 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 un po alla volta perché allora andiamo ad analizzare le reazioni intanto Emiliano allora io intanto vorrei capire una cosa dal momento che Emiliano è un magistrato è un uomo di legge e dal momento che per quanto riguarda questa vicenda non c'era e non c'è nessun estremo penale è una vicenda lecita si può parlare criticare o meno eventualmente l'opportunità ma se io presidente di regione dico legalmente la cosa è a posto per me Gianni è una persona per bene pulita virgola perché lo perché di fatto lo metto in condizione di andare via perché tu hai rassegnato le dimissioni e le dimissioni di fatto sono state accettate subito cioè è questo quando avrò modo di incontrare Emiliano di intervistarlo glielo chiederò perché tu mi conosci non non ho mai fatto sconti a nessuno e non intendo farne giornalisticamente parlando ci mancherebbe però dico questa questa è la cosa che stride se io considero una persona per bene e la cosa pulita non vedo perché devo poi prendere certi provvedimenti allora forse ci sono altre ragioni retrostanti dietro la tua defenestrazione c'era qualcuno che ha voluto cogliere mettere quasi quella buccia di banana e dire prima o poi questo deve cadere io vorrei tenere separati due livelli e due tempi no questo lo dico per onestà intellettuale e per rispetto non fronte di tutti e oserei dire per rispetto nei confronti di me stesso io sono non dimentico non dimentico che Emiliano ha condiviso con noi un pezzo di strada non dimentico che Emiliano mi ha posto capolista della lista e non dimentico che Emiliano mi ha dato la possibilità di fare sia pure per un breve periodo l'assessore regionale per questi aspetti gli sono evidentemente ancora delato poi però esiste una 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 seconda fase del rapporto la seconda fase è legata diciamo la vicenda politica della della gestione dell'assessorato io volevo provare in verità da persona innamorata di taranto comunque del nostro territorio a ad essere a essere utile a questa comunità mi sembrava assolutamente doveroso da tarantino provare a essere con tutti i limiti possibili nel mio piccolissimo strumento di costruzione di speranza di bellezza di felicità di futuro di visione di futuro in questa città e questa cosa mi veniva rimproverata praticamente ogni giorno cioè ogni giorno mi si diceva basta taranto rallenta soltanto e questa mi sembra che sia stata una causa importante poi ce ne sono state anche diverse altre al di là delle legitte delle comprensibili rivalità di campanile non accettabili ma lo capiamo anche perché poi magari diciamo c'è la diciamoci la verità il barese il leccese oramai ha monopolizzato la realtà regionale e poi si sa bene che per esempio la vicenda aeroporto al visto i traffici e i flussi consistenti che proviene provengono da taranto chiaramente il barese il brindisino mai e poi mai vorrà far sì che l'arlotta sia aperto ai voli passeggeri e voli civili ma questo dicevo si può anche comprendere il legge si possono anche comprare le gelosie delle altre province pugliesi ma tu pensi che ci possa essere stato anche qualche tarantino qualche politico tarantino qualche puparo che potrebbe aver detto gianni liviano ce lo dobbiamo togliere davanti che io non abbia buoni rapporti con il sindaco di taranto e con diciamo i vertici del partito democratico di taranto un fatto mi sembra assolutamente noto a chi si chi legge giornali chi si occupa di queste cose certamente noi per carità non stiamo incolpando nessuno è nel sindaco nel pd ma ci ma ci hanno ha detto solamente io non ho un buon rapporto con tizio e conto con caio con semproni non sono assolutamente in lato evidentemente di dire se queste persone hanno seggiato o no la mia permanenza lì è evidente che rappresentiamo mondi dinamiche idee di politica completamente differenti e questa è un'altra con causa poi ce ne sono almeno altre tre che se vuoi ti elenco con calma quindi sei rimasto abbastanza deluso da emiliano vi siete rivisti perché poi è passato circa un mesetto quindi avrete avuto modo di vedervi che impressione ti ha fatto si sentiva in imbarazzo ma io non so nella mente come ti è parso diciamo nel cuore nel cuore di emiliano è sempre molto 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 affabile però al di là di quello che mostri di essere poi ovviamente ci sono delle scelte forti rispetto alle quali insomma si misurano si misura la credibilità delle persone ripeto davvero questo nel rispetto più profondo verso la distrizione di un presidente di revocare gli incarichi a chi ritiene più opportuno cioè voglio dire quando io sono stato nominato sapevo bene che il rapporto era basato sulla fiducia che in quel momento il presidente mi stava dando e chi ti dà la fiducia può anche toglierta e questa cosa è assolutamente legittimo fa parte del gioco dei ruoli forse se mi posso permettere non è legittimo usare pretesti e scuse gettando infamia sulla gente quando si sa benissimo che le motivazioni per cui sta gettando infamia sono assolutamente inesistenti vediamo un po allora quello che in questi tre mesi non di assessorato hai portato avanti fino al punto ovviamente in cui il cammino si è interrotto e poi gli obiettivi da consigliere regionale perché comunque tu rimani consigliere regionale io ti provo a dirti che cosa abbiamo fatto su taranto ma evidentemente abbiamo provato a fare anche cose altrove per taranto abbiamo portato gli ori di taranto all'expo senza nessun tipo di costo della regione salvo i 600 euro che sono state pagate per la polizia assicurativa gli altri servizi sono stati resiti gratuitamente da parte di società di taranto che avendo condiviso il progetto si sono date hanno dato loro disponibilità penso alla vigilanza al trasporto degli ori alla custodia alle all'orchestra magna grecia piuttosto che altresa che sono andati all'expo fare animazione è una serie di di altre cose di questo tipo abbiamo contribuito a salvare il paesiello abbiamo aperto l'arsenale alla fluidità della gente come luogo di spettatori teatrali abbiamo ospitato rumiz il giornalista di repubblica avviando un percorso di lettura e di progettazione rimasto un mar piccolo abbiamo condiviso con giannini modalità nuove per la realizzazione dell'impianto fognante nei quartieri dove l'impianto fognante non c'è lama talsano sambito tramontoni dito azzurro pezzi di solito corbisea facendo venire giannini assessore ai trasporti ma evidentemente in questo caso le infrastrutture e condividendo con lui le idee percorsi cose da fare che si stanno attuando abbiamo immaginato avevamo 400 mila euro poi ho visto che l'assessore capone non ha sostituito le ha investiti acquistando spazi su sky art questi 400 mila euro destinati alla promozione del martaio ho immaginato che queste questi questi soldi fossero destinati a rendere fruibili rendere fruibile il museo anche rispetto da parte dei bambini attraverso percorsi in 3d cioè l'idea era che se i bambini sono in qualche maniera il motore delle scelte delle famiglie se le famiglie vanno a fare turismo nei luoghi dove i bambini stanno contenti stanno felici vogliono andare allora era necessario far diventare anche il museo luogo fruibile ai bambini e quindi pensavamo a dinamiche che potessero in qualche maniera accontentare i bambini valorizzare le loro idee investigative inventarsi gianni scusa ma purtroppo i tempi televisivi sono quelli che sono abbiamo tantissimi argomenti da consigliere cosa intendi fare adesso sono più libero di dire che sono un consigliere di taranto e sono più libero di poter dire che mi sta al cuore evidentemente la puglia ma mi sta al cuore taranto mi sta al cuore la provincia di taranto cioè divento assolutamente un consigliere del territorio e tento adesso la partita su taranto è imprescindibile fondamentale ci stiamo giocando evidentemente il futuro dobbiamo provare a restituire speranza una comunità che fa fatica avere speranza e dobbiamo costruire una visione un'idea un progetto il tavolo taranto si è attivato però bisogna essere davvero molto vigili perché questo tavolo taranto non sia una bufala a questo proposito dobbiamo parlare della situazione di taranto dobbiamo parlare dell'ilva io gianni come tutti sapete a questi decreti salva ilva non credo a questi decreti salva taranto purtroppo sono dei decreti salva ilva non sono dei decreti salva taranto si è cercato in ogni modo di si sta cercando in ogni modo di salvare l'ilva e siamo arrivati al numero 7 decreti l'onorevole pelillo santifica questi decreti però si rende non si rende conto evidentemente dei rischi perché lui stesso parla di scommessa e io penso che quando si quando imballo la vita la salute c'è poco da scommettere poi sinceramente le scommesse possono esserci all'inizio non è che possiamo stare tutta la vita a scommettere sulla pelle delle persone quindi intanto la tua posizione sulla questione ambientale la vita delle persone di qualunque persona di chiunque e dei bambini in particolare evidentemente è al centro deve essere al centro di ogni tipo di politica longimirante e qualunque argomento qualunque impresa qualunque industria che lede le aspettative di vita delle persone non può essere amica del territorio detto detto questo per onesta intellettuale però va detto che laddove ci sono tante persone che lavorano in un'impresa si fa fatica a dire tu cur chiudiamo quell'impresa però gianni a mali estremi rimedi estremi a mali estremi rimedi estremi ma compito la politica io per questo sono molto dispiaciuto per l'esito l'evoluzione della della cosa che mi riguarda perché se noi continuiamo a tardare sulla possibilità concreta di costruire alternative di futuro e forse la cultura del turismo non le uniche possibili ma potevano essere delle alternative economiche di sviluppo per questa città è semplice questa cosa ci rende sempre molto deboli nei confronti delle scelte drastiche sull'ilva perché se non hai alternative fai fatica a dettare i tempi alle grandi imprese però la sensazione in verità è che se questa è l'evoluzione l'ilva si chiude da sola e d'altro c'è il mercato che la condanna c'è il mercato che la condanna parliamo di altre opportunità negate al nostro territorio pensiamo l'ho menzionato qualche minuto fa l'aeroporto il porto che di fatto non decolla il distri park non esiste più oramai fa parte del gran libro dei sogni di un passato remoto insomma tutte le quelli che quelle occasioni quelli che dovevano essere che dovevano rappresentare quegli elementi che dovevano rappresentare il volano per l'economia per lo sviluppo ionico effettivamente sono lì fermi il futuro per taranto è un futuro che non si vede evidentemente sì in verità sono tre livelli differenti condivido sul fatto il distri park una cosa di cui si parla sindaco di bello insomma passata un'era da allora e nulla è stato fatto perché nel frattempo qualcosa si muovesse la vicenda aeroporto so di essere impopolare io non onestamente luigi espori la tua idea ci mancherebbe io non sono convinto che che a taranto cioè noi abbiamo un aeroporto a brindisi e un aeroporto a bari no e allora ci mancherebbe avere non utilizzarle un peccato assolutamente sì però valorizzare bene l'aspetto dei tardo la ricezione mercantile il collegamento alle ferrovie immaginare che questa cosa possa creare posti potrebbe essere una diversificazione tenerla così evidentemente non è nell'una nell'altra ipotesi è una forma assolutamente embrionale di una cosa che ancora tarda svilupparsi rispetto al porto non non sono certo che ci sia immobilismo in verità. Do atto a prete però finora ci sono stati problemi lacce laccioli burocratici tutta una serie di contenziosi che chiaramente hanno frenato ogni ipotesi di sviluppo speriamo perché ripeto evergreen se n'è scappata da taranto? Evergreen se n'è scappata da taranto un pensiero va evidentemente ai lavoratori di città che adesso non sanno bene qual è il loro futuro un pezzo importante di questo tavolo taranto a cui ho partecipato due volte una volta in prefettura a taranto un'altra volta a roma palazzo chigi un pezzo importante del tavolo taranto è al centro della sua prospettiva il porto. Andiamo alle cose di casa nostra parliamo dell'amministrazione comunale un sindaco Stefano questa è una mia opinione pessimo siamo arrivati al punto che qualcuno almeno come progettualità incomincia a rimpiangere Rossana Di Bello che è tutto dire che è tutto dire d'altronde non possiamo certamente negare che Di Bello e Tucci sono stati i padri del di Sesto padre e madre del di Sesto ma l'aspetto proprio che mi inquieta è vedere un sindaco che sembra vivere in un'altra dimensione in un'altra realtà per lui tutte le cose vanno bene poi il consiglio comunale non si non si raggiunge neanche il numero legale il PD che lo attacca ma siccome il PD evidentemente è incollato con l'attac alle poltrune Assessorili comunque non abbandona Stefano insomma questa questa esperienza amministrativa è tragicomica. Si dire l'avevamo detto non avrebbe molto senso diciamo che davvero adesso Stefano rappresenta è un fatto di tempi cioè in realtà il suo percorso è finito tenercelo un altro anno e mezzo significa paralizzare Taranto continuare a paralizzare Taranto assolutamente condivido questa cosa quando provammo a fare una raccolta di firme per mandare a casa Stefano un paio di anni fa firmammo io Bonelli Capriulo e Venere quattro persone quindi voglio dire non mi sembra che neanche da parte delle altre opposizioni ci sia un gran desiderio di mandare a casa il sindaco. Ma a parte questo io rimando sconcertato in verità dalla lettura bipolare e onestamente un po' contraddittoria che il PD fa di questa esperienza. Da un lato la condagna ogni piesso spinto e dall'altra parte né l'azionista di maggioranza. Quando leggo... Partito di maggioranza relative quindi il primo complice politico Il vice sindaco è almeno due o tre assessori. C'è l'assessore De Gregorio e poi il presidente del consiglio comunale C'è il presidente del consiglio comunale. Ora ci mancherebbe altro è tutto assolutamente legittimo però un richiamo alla coerenza probabilmente avrebbe anche un significato. Io leggo interviste di illustri esponenti del PD su giornali locali che condannano l'operato del sindaco salvo poi reggerne l'amministrazione non capisco il senso di questa cosa cioè non capisco quale sia l'obiettivo Mantenere la poltrona E questo lo dice lei? Sì, lo dico io. Non posso dire apertamente perché io ho letto, abbiamo sentito tutti le dichiarazioni del segretario cittadino Tommy Lucarella che pure è una persona che io stimo e il quale ha detto candidamente che non condivide la scelta, lui e la sua segreteria cittadina non condividono la scelta dell'assessore all'urbanistica nella persona della biologa Ersilia Marra non per sminuire le capacità grosse di questa professionista che è una biologa ma uno si domanda, scusatemi, ma cosa ci azzecca una biologa all'urbanistica? E altrettanto grave sarebbe stato se noi avessimo messo, dico per dire, alla sanità per esempio un architetto giusto, è all'ambiente un architetto ma non si riesce a comprendere l'atteggiamento del PD che tira il calcio, piange però poi rimane sempre lì ecco perché dicevo attaccamento con l'Attac alle poltrune Sì, per amor del vero non è l'unica scelta bizzarra in questo tema da parte del sindaco io non dimentico per esempio gli assessori a sei mesi cioè in sei mesi chi non viene dalla pubblica amministrazione ed è completamente esterno magari riesce a fatica a capire dove si trova e con che ha a che fare io sentivo in quel periodo che gli assessori erano scelti guardando i curriculum di ragazzi che siano proposti per tentare di lavorare con l'amministrazione comunale e questo nulla toglie veramente allo spessore la qualità, le competenze di questi ragazzi ma evidentemente se tu credi che uno sia bravo lo tieni se tu credi che uno sia ciuccio non lo metti metterlo a sei mesi iniziando già sapendo il percorso dei due a sei mesi significa che non ha senso quello che stai facendo ma poi l'assurdo è stato che nella fattispecie con l'assessore Carella il sindaco ne ha riconosciuto i meriti però dopo sei mesi l'ha mandata via è un comportamento politicamente schizofrenico qualche giorno prima di mandar via l'assessore Carella l'aveva anche nominata assessore alla pubblica istruzione però adesso ripeto abbiamo perso tempo è stata fortemente rallentata la speranza che la città potesse migliorare il dopo di bello era veramente un bivio la possibilità probabilmente per progettare scenari nuovi dico su una nuova visione di futuro è andata in questa maniera ora si tratta di capire dove vogliamo andare per il dopo Stefano e il PD Gianni? questo partito che sembra come dire dominato dall'azionista di maggioranza onorevole Michele Pelillo ma io evidentemente non ho nessun titolo per parlare dico un PD che chiaramente questo si percepisce in giro completamente distante dalla gente non sono certamente più gli eredi della sinistra storica un PD che ripeto sta con Stefano perché deve mantenere quella poltroncina quella fetta di potere io credo che la città ha la sensazione da uomo della strada cioè non è un'analisi dell'operato del PD non ho nessun titolo non è mi permettere mai di farlo la sensazione in questo momento è che le persone apprezzino dinamiche di impegno sociale e politico che esulino voglio dire o che non necessariamente facciano parte di contenitori partito e che voglio dire non necessariamente abbiano il mero obiettivo di raggiungere ruoli di potere mi pare che gli scenari che si aprono prevedano in questo momento altre dinamiche bisogna stare attenti a che queste nuove dinamiche non siano una riedizione di populismi già visti Liviano intanto analizziamo il fenomeno dei 5 Stelle si sta creando una serie di realtà antipolitica per così dire antisistema parliamo dei 5 Stelle ma parliamo anche della realtà di Taranto dove ci sono tante realtà antisistema però completamente divise tra loro perché in questa città ci sono tante prime donne prime donne tra gli ambientalisti prime donne nella società civile e alla fine magari anziché fare un unicum coalizzare le forze si andrà queste forze andranno sparpagliate parliamo dei grillini intanto del Movimento 5 Stelle una premessa ci sono tante persone brave ovunque in tutti i contesti ci sono tante persone che in maniera nobile dal Partito Democratico fino a non so dove si impegnano per tentare di essere utili a questo territorio lo fanno con passione e lo fanno per tentare di essere costruttori di bene comune non c'è il luogo della verità o il luogo invece dell'antitesi della verità ci sono i luoghi dove si prova a tentare di essere utili a partire da dimensioni valoreali da ideologie, da opportunismi, da interessi, da bisogni, da come succede ovunque il Movimento di Grillo a me sembra, lo vedo anche in Regione è portatore di un'aspettativa di onestà e di un desiderio di fedeltà voglio dire a un'aspettativa di bene comune questo mi sembra il valore importante e sta creando evidentemente una serie di aspettative positive sul territorio se posso osare e permettermi ma lo faccio veramente avendo consapevolezza dei miei miliardi di limiti probabilmente il limite è quello che la politica non può essere solamente il luogo del no ma deve essere il luogo della costruzione cioè l'arte di costruire deve privilegiare la dimensione della sottolineatura delle negatività altrui perché la voglio dire la protesta se non è abbinata alla proposta davvero serve un po' a poco poi c'è anche un altro atteggiamento che sinceramente non accetto dei grillini del Movimento 5 Stelle fermo restando il loro impegno e la loro forte ventata di novità e di pulizia che hanno portato però non si può dire noi corriamo da soli noi non vogliamo altre forze coalizzate alleate con noi perché questo è stabilito dallo Statuto e chi vuole praticamente abbandona tutto e ci segue è un po' sembra quasi un atteggiamento appunto di Gesù quando disse ai discepoli lasciate tutto vi farò non pescatori di pesci ma pescatori di uomini cioè in pratica se altre realtà volessero coalizzarsi con i 5 Stelle condividendo programmi e obiettivi non possono farlo se non appoggiarli tu curre e basta senza apparentamenti elettorali senza nulla perché la verità la luce è rappresentata dal Movimento 5 Stelle beh questo mi sa mi dà l'idea quasi no? qualcuno dice ma che siamo in una setta? politica è confronto è dialogo è ricerca di sintesi è coralità è condivisione la politica rispetto alla quale i 5 Stelle si contrappongono non è dialogo non è condivisione sto parlando evidentemente delle forze principali PD Forza Italia per come sono concepiti adesso sono luoghi di appartenenza non a contenuti condivisi ma al leader si ragiona su a chi sei amico no? e questa cosa non va bene e ben venga la ventata di di novità e la pulizia che i 5 Stelle propongono no? si respia credo ascoltando le loro voci aria d'onestà intellettuale però non sono i depositari di verità rivelate non 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 è assolute è assolute sono persone che come tutti gli altri provano a impattarsi con la politica tentando di dare un contributo dicendo a volte fesserie clamorose e a volte cose credibili come tutti quanti per concludere cosa farà Gianni politico Gianni Liviano da grande con quale forma se continuerà a fare politica ed eventualmente con quale movimento continuerà la sua esperienza? Gianni Liviano è già grande purtroppo si diventa presidente della repubblica a 90 anni adesso io vorrei tentare sto facendo questa esperienza di consiglio regionale e vorrei provare a a tentare di essere utile alla mia città anche come candidato sindaco futuro non è assolutamente all'ordine del giorno questa cosa invece è all'ordine del giorno il fatto che sto provando e non so se ci sono riuscito ad anteporre all'orgoglio e la dignità ferita che istintivamente mi aveva portato ad essere radicale in delle scelte sto provando invece ad anteporre il tentativo di essere costruttore di bene comune so che la gente non mi ha eletto per fare polemiche con nessuno neanche con Emiliano che la sofferenza che sto provando me la tengo dentro e che nonostante tutto io devo stare là per tentare di essere costruttore insieme agli altri di cose buone per questo territorio bene Gianni è tutto io in genere sono solitamente critico nei confronti della classe politica ti dico sinceramente tante alcuni aspetti non non in questa intervista ma in genere anche in passato posizioni proprio approcci ideologici diversi ma io in tutta onestà in tutta sincerità vedendo questa vicenda ho detto da cittadino non da amico voglio essere vicino a Gianni Liviano perché credo nella sua pulizia e nella sua onestà purtroppo c'è qualcuno che ha voluto tendere una trappola questa è la mia chiave di lettura tanti auguri Gianni bene una puntata diversa dalle solite con tanti momenti anche diversi tra loro ma Polifemo è un open space uno spazio aperto a tutti e in queste due ore noi cerchiamo di dare spazio a tutti dal soggetto meno nuto al soggetto più nuto ci sforziamo di essere dalla parte della gente è tutto l'appuntamento per venerdì prossimo anteprima di Polifemo alle 20 e 30 Polifemo alle 21 ricordiamo le repliche la domenica e il mercoledì alle 14 e 30 che dire se Dio lo vorrà ci saremo anche venerdì prossimo Polifemo l'informazione libera della città buonasera grazie a tutti